L'ontologia neoliberale si fonda su quella che definisco la mistica della necessità. Sarebbe erroneo e superficiale intendere il neoliberismo semplicemente come una filosofia politica. Si tratta invece più in generale di una ontologia ben precisa, che ha il suo fondamento nel teorema elaborato da Margaret Thatcher secondo cui there is no alternative, non ci sono le alternative. L'ontologia neoliberale dissolve la possibilità nella realtà e c'è e ci convince della intrasformabilità del mondo. Non dice che quello che abitiamo, totalmente sussunto sotto il capitale, è il migliore dei mondi possibili. Semplicemente dice che è il solo possibile, cosicché il giusto, nonché unico atteggiamento da intrattenere con il mondo dato, è quello della sua sopportazione resiliente, cercando non già di cambiare l'oggetto che viene giudicato intrasformabile a prioli, bensì bisogna semplicemente accettarlo così com'è, trovando magari spunti di crescita individuale nella sopportazione del mondo. La resilienza diventa la virtù fondamentale dell'epoca neoliberale, l'accettazione cadaverica dell'esistente diventa la modalità fondamentale e poi ancora l'adattamento permanente e la modalità che viene richiesta agli abitatori della cosmopolia neoliberismo integrale. Dicevo che è un'ontologia precisa, è quella che fa valere la mistica della necessità. Non vi è spazio per la possibilità, la realtà viene presentata come pura datità che deve essere accettata. È quello che potremmo altresì definire un concetto intimidatorio di realtà. Questa è la realtà, adattatevi, non si danno possibilità di essere altrimenti. Vi sono state epoche in cui il mondo era diverso, ma ora non può più essere rispetto a com'è. È quella che viene anche detta la fine della storia. La storicità si è estinta, si tratta di abitare l'eterno presente della reificazione integrale, trovandovi tutt'al più spunti di crescita individuale alla maniera resiliente.